Siracusa, riapertura bretella Noto Pachino, Falcone, completata opera incompiuta da anni. Avevamo detto che avremmo consegnato l'opera la prima settimana di maggio e così è stato. Il governo Musumeci ha mantenuto l'impegno assunto nei confronti del territorio e completa, dopo più di un lustro d'attesa, una infrastruttura che tutti davano ormai per persa. Lo ha affermato l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, a margine dell'apertura al traffico a doppia carreggiata della bretella Noto Pachino. L'arteria congiunge lo svincolo autostradale di Noto alla strada provinciale 19 e all'area costiera del Siracusano. Le restrizioni al traffico continuo a Falcone dovevano durare solo due mesi e così è stato, malgrado il coronavirus e la fase di generalizzata emergenza. Oggi consegniamo ai siciliani un'opera da 18 milioni complessivi che giaceva in compiuta. L'abbiamo rianimata contenendo i ritardi e completandola grazie allo sforzo importante della consorzio autostrade siciliana, dei tecnici, dei lavoratori e delle imprese esecutrici. Tutti attori protagonisti della svolta virtuosa e impressa dal governo Musumeci all'ente di gestione autostradale. L'apertura al traffico della bretella che collega la provinciale Noto Pachino all'autostrada è una buona notizia per la viabilità siracusana e in particolare della zona sud. La soluzione alla fine è stata adottata segue quella indicazione che avevamo dato sin dalle prime battute di questa vicenda, mal gestita in avvio da regione e consorzio in primo luogo. A dirlo sono i parlamentari Paolo Figare, Filippo Scerre, Movimento 5 Stelle e il deputato regionale Stefano Zito. Avere avuto il buon senso di ascoltare quella proposta è un bel segnale di collaborazione anche nei confronti di quei territori che rischiavano l'isolamento e che anche tramite il comitato cittadino e gli attivisti del Movimento 5 Stelle sono invece riusciti a levare forte la loro voce fino a Palermo. E questo grazie anche all'attenta mediazione della prefettura di Siracusa, ricordano gli esponenti 5 Stelle. Abbiamo incontrato diverse volte il comitato cittadino che ha esposto le ragioni del no alla chiusura della provinciale senza alternative, raccogliendone le istanze poi tradotte in svariati solleciti della regione, ricordano Figare, Scerre e Zito. E' lescito ora attendersi che ogni sforzo venga concentrato sulla incompiuta Siracusa-Gela. Regione e consorzio autostrade siciliane si concentrino sul completamento dell'autostrada sperando che il cantiere possa riprendere presto a pieno regime. Spingendosi fine nel ragusano, nessuno pensi di aver fatto qualcosa di straordinario, il monito degli esponenti 5 Stelle. Grazie a tutti.